pari a tutti ecco questa mattina ho sentito l'esigenza di fare questo e questo messaggio all'inizio voglio dire proprio un ave maria perché chiedo proprio che mi dia proprio la grazia di dire solo quello che vuole lui proprio perché sia una benedizione senza fine proprio per tutti quelli che ascolteranno anche in futuro avevo maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori ad esse nell'ora della nostra morte a me ecco questa piccola catechesi la vorrei chiamare il segreto della vittoria allora volevo far presente tutte le persone che possono ascoltare sia le catechesi sia gli audio qualunque cosa e naturalmente dirò una cosa scontata ma poi spiegherò perché che come dice il concilio vaticano secondo e la vittoria di crista è certa ma passa per un combattimento che il concilio vaticano stesso definisce e non dice proprio la parola tremendo comunque è un combattimento molto serio con il maligno e con le forze del male e la vittoria è certa perché Gesù già affrontato tutte queste cose le ha vinte ma per farle passare da Gesù alle nostre situazioni concrete cioè perché la vittoria passi dalla croce di cristo alle circostanze della nostra vita e quindi si manifesti realmente nei fatti c'è bisogno di sostenere a volte un combattimento che può essere piccolo può essere breve come può essere invece grande può essere lungo a volte può essere addirittura di anni anche se in casi rari bisogna dirlo perché di solito dio è molto fa tutte le cose secondo misura e sapienza dice la scrittura e con misericordia quindi di solito sono poche le persone a cui chiede combattimenti di anni però comunque sia sia che chiede combattimenti della settimana di un mese sia di un anno dei dieci anni dei trent'anni dei quarant'anni lo sa lui naturalmente tutto questo è sempre perché lui sa che concorre al nostro bene al bene di coloro che amano dio allora oggi vi voglio rivelare alcuni segreti tra virgolette segreti secondo me che sono delle delle discriminanti proprio per la vittoria cioè secondo me sono proprio fondamentali secondo me non posso consigliare cosa migliore ecco allora naturalmente nel combattimento le cose più importanti no ne sappiamo sappiamo che vince chi prega sant'alfonso diceva chiaramente la chiesa l'ha ripreso nella tradizione chi prega si salva chi non prega si danna cioè che non si danna significa perde si è sconfitto si è in terra e poi si danna pure all'inferno insomma per sempre no quindi per vince per salvarsi quindi per salvarsi per guarire per liberarsi perché la parola salvezza nella bibbia significa salvezza protezione guarigione liberazione santificazione significa se può di ogni bene no perché salvezza significa essere salvati da tutti i mali ok allora e chi prega si salva chi prega guarisce chi prega si libera chi prega si santifica chi pregava in paradiso e si salva per l'eternità e a gioia eterna chi prega vince in questa vita anche nell'altra chi non prega invece piglia le badosti in questa vita e non sa come superarle spesso purtroppo perché non è che siamo contenti di questo ci dispiace sempre quando un fratello e una sorella perdono o si dannano e quindi allora questo è proprio fondamentale allora chi ascolta il mio canale chi vuole seguire questo cammino insieme con me dietro a gesù con maria per maria e maria perché tutti quanti siamo alla sequela di gesù io che primo e alla sequela di maria proprio che va dietro a gesù deve sapere ecco questo perché mi chiamano persone che giustamente avrebbero bisogno di una preghiera di liberazione al giorno di un esorcismo al giorno e di di continue preghiere c'è sta chi mi scrive preghi per me giorno e notte no per carità nel senso naturalmente nella divina volontà noi abbiamo una preghiera che continua quindi meno male che c'è stata divina volontà no e però volevo dirvi alcune cose perché il combattimento lo deve fare anche il pastore quindi il sacerdote tutto quanto ma guardate gesù nelle cose è molto molto sereno tranquillo ma molto molto responsabilizzante cioè il sacerdote non è come tra virgolette un mago da cui se va si dà la pratica si paga e poi fa tutto lui tra virgolette anche se sbagliando perché lo fa con la magia e con satana no no noi non siamo nel regno di satana gaggiamo così noi siamo nel regno di dio dove ognuno ci deve mettere per vincere per amare dio tutto il cuore l'anima le forze ci deve mettere tutto se stesso non può delegare il sacerdote o chi può essere un aiuto ma non è un delegare agli altri allora io la maggior parte di voi non fa questo lo so che già combattete pregate siete responsabili siete figli e figli meravigliosi di dio figli e figli meravigliosi di dio quindi che dio vi starà benedica in eterno no allora oggi voglio dirvi secondo me chi segue la spiritualità che il signore dona anche attraverso il canale sempre nell'ambito della santa chiesa in obbedienza alla chiesa io vorrei dire naturalmente le cose più importanti per amare dio il prossimo e per liberarsi guarire e santificarsi sono prima di tutto la santa messa quindi la messa e la comunione questo è no poi tutto ciò che è liturgia della chiesa perché il concilio dice che la liturgia della chiesa e in primo posto la santa messa sono le cose più efficaci quindi la messa le lodi i vespri l'ora media compieta le benedizioni che sono gli esorcismi che sono benedizioni pubbliche della chiesa tutto ciò che è preghiera pubblica della chiesa quindi preghiera liturgica è la più efficace per tutte le cose questo lo afferma il concilio vaticano secondo quindi andiamo sul sicuro poi io qua voi volevo dire una cosa molto importante tra le preghiere invece private quelle che noi facciamo privatamente come singole persone o in gruppo ma che non sono preghiere pubbliche della chiesa come può essere la messa come può essere che ne so i sacramenti no i sacramenti sono preghiere pubbliche della chiesa perché la chiesa è coinvolta la confessione tutte le volte che la chiesa dai sacramenti sono preghiere pubbliche no nel senso che coinvolgono una chiesa no e allora a parte queste che sono le cose più importanti quindi la messa i sacramenti le preghiere pubbliche ho detto e tutte queste cose qui no a livello privato le cose più importanti per vincere per salvarsi per guarire per liberarsi sono san francesco di sal dice che la preghiera privata più importante è l'orazione mentale che detto in termini semplici è la meditazione in particolare la meditazione della sacra scrittura la parola di dio è un'arma potete verificarlo è scritto in efesini 6 c'è proprio scritto che la parola di dio è la spada dello spirito quindi san francesco di sale che io prendo come riferimento speciale che ho scelto come padre spirituale in cielo e oltre quello che c'ho già intera di padre spirituale e lui dice che la preghiera privata più importante in assoluto per evitare il peccato e fare ogni bene è la meditazione in particolare della scrittura e questo è vero e io sto insistendo nel predicare questo perché tra noi ancora si pratica pochissimo la meditazione della scrittura ci sono persone che non la fanno mai neanche una volta in un anno proprio proprio non sono proprio abituate a farla e questo è una è come se tu c'è un'arma in una corazza meravigliosa e non la prendi mai c'è una spada da paura che con cui vinci tutto vari tutti i colpi li vinci e invece praticamente non la usi mai è una carenza veramente ci si salva lo stesso per grazia di dio però è veramente uno potrebbe come di potrebbe andare da roma a napoli tranquillo e sereno con una bella macchina che non balla non fa rumore niente invece c'era con una catapecchia che quando arrivi sei esaurito no e vabbè quantomeno sei provato diciamo così poi quindi la prima cosa la meditazione la mediazione si può fare sulla scrittura e come diceva padre pio si può fare anche sui testi dei santi no tanto i testi dei santi riportano le verità contenute nella saga scrittura quindi l'orazione la preghiera la mediazione si può fare direttamente sulla scrittura o leggendo quello che è la tradizione della chiesa non il magistero della chiesa i santi e così via diciamo che qualunque libro che ti insegna le verità contenute nella saga scrittura poi le può legge direttamente dalla saga scrittura oppure attraverso il magistero della chiesa attraverso i santi attraverso i fioretti attraverso tutto quello che ci insegna anche con la meditazione del rosario perché il rosario ogni mistero se si legge un brano della bibbia e si medita che il rosario è previsto che si mediti ogni mistero anche così si può fare no ed è una delle cose più forti allora quindi la prima cosa è la meditazione e è un'arma enorme perché nella meditazione succede che ti parla lo spirito santo e lo spirito santo con la prova di dalla via d'uscita a volte quando uno legge la scrittura dopo tanto tempo che nella prova dio ti parla e finalmente da una via d'uscita da quella prova e tu cominci proprio a uscire da quella situazione capisci che sbagliavi a pensare così che tu devi invece dichiarare la tua fede cioè è lampa dei nostri passi la scrittura e la parola e quindi se lampa dei nostri passi seguendo la vivremo nella luce gesù lo dice chi segue me cammina nella luce e se cammini nella luce le tenebre se ne vanno e vengono vinte lo dice giovanni capitolo 1 e la luce splende ma le tenebre non l'hanno sopraffatta alleluia perché la luce vince poi tra le preghiere private oltre alla mediazione io metto proprio al primo posto nella spiritualità mia e quelle di quelli che vogliono seguire questo cammino il santo rosario guardate io vi dico una cosa uno dei segreti più grandi delle vittorie è colei che schierata come esercito come dice don bosco la madonna guardate non vogliate mai togliere maria da nessuna parte perché maria ci deve sempre sta vicino a gesù non fate mai questo errore per un appresso che non si sa chi a quello che dice così magari all'evangelico oppure per carità guardate la prima cosa che fa il demonio per sdrenate è togliere la scrittura e togliere maria perché una volta che tu cominci a togliere quelle praticamente tu cominci a avere parti della della tua corrazza che cominci diciamo a perdere quindi sei più facilmente colpibile guardate maria santissima monforte dice che tutti i mezzi di grazia servono per santificarsi ma maria è l'unico dono mezzo di grazia che ti ottiene la grazia non è che ti aiuta a santificarti ma ti fa proprio ottenere la grazia che poi ti santifica tutto quello che fai e questo è il segreto meraviglioso del monforte lo dice chiaramente nel libro del trattato della vera devozione a maria dice che tutti gli altri mezzi servono per santificarsi ma maria non ottiene la santificazione solo ottiene proprio la grazia stessa perché è la madre della grazia la madre di gesù guardate che questa è una cosa pazzesca quindi non vogliate mai in nessun modo levare maria da qualunque cosa per quello che dipende da voi naturalmente perché a volte cose indipendono da noi però per quello che dipende da voi state sempre con maria in maria fate le cose per maria e sarete sempre più con gesù per gesù in gesù col padre nello spio santo quindi io oggi vi invito soprattutto a valorizzare una cosa guardate questa è la mia esperienza personale e però non è in contrasto con l'insegnamento della chiesa quindi lo testimonio guardate io ho visto che quando si devono avere non grazie ma miracoli soprattutto è quasi discriminante è veramente fondamentale a recitare il più possibile rosario e soprattutto io vi invito a recitare le 20 post del rosario al giorno lo so che sembra difficile ma in realtà alla fine con ora un'ora in quarto si dice tranquillamente a volte noi perdiamo un'ora in quarto veramente a fare cose che ci potremmo evita tranquillamente allora perché vi dico questo perché questo è confermato anche dalle promesse che ha fatto la madonna rosario lei ha detto che chi dice rosario intero tutti i giorni ogni giorno riceverà una grazia magnifica che significa un miracolo allora voi sapete che la liberazione da una possessione è un miracolo voi sapete che guarire da un tumore è un miracolo allora io ho notato che in certi casi soprattutto difficilissimi spesso c'è se la fa in maniera certa se si dice rosario intero e o quantomeno più possibile il rosario perché guardate certe battaglie io direi tutte le battaglie però certe in particolare se vincono e ha il potere di vincerle solo chi veramente e si esercita e combatte con maria insieme a maria contro il male e lo so a delle persone potrebbero dire no da roberto però questo è un po esagerato è scusatemi se io non voglio turbare nessuno però questa è la mia esperienza io non mi sono mai pentito di affidare o di pregare o di stare insieme a maria guardate vi assicuro mettetecela sempre la madonnina accoglietela sempre nella vostra casa come dice gesù sotto la croce giovanni la prese nella sua casa nella sua vita guardate il mo forte dice chi dice rosario intero in punto di morte si renderà conto e ringrazierà dio in eterno per averlo detto tutti i giorni e io vi dico col l'uomo forte in punto di morte se ne renderà conto pienamente ma chi lo dice tutti i giorni già lo sa che è così che quando sei malato spesso otterrai un miracolo di guarigione quando sei indemoniato spesso avrai la liberazione a volte solo dicendo rosario intero questo è molto importante io ho sperimentato che le persone che dicono rosario intero e guardate il demonio in più di un esorcismo ha detto costretto da dio che le persone che vanno a messa e dicono rosario intero per lui sono impenetrabili inespugnate proprio lo distruggono e mi sto dicendo questo perché non perché io vi dico di non fare preghiere di liberazione esorcismi così via no 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 lo sapete io lo predico cerco di insegnarlo io ho insegnato a usare i sacramentali l'acqua oli e sale esorcizzato sempre come dice la chiesa con spirito di santità e con rispetto e tutto però vi assicuro che se voi anche ricevete un esorcismo al mese ma questo esorcismo è sostenuto da rosario intero tutti i giorni quando voi andate a fare l'esorcismo il demonio viene bruciato vivo perché ricordatevi che l'esorcismo non è un sacramento è un sacramentale una benedizione per cui l'effetto è proporzionale anche alla preghiera di chi lo riceve e al sacerdote che lo fa e alla fede del sacerdote che lo fa quindi se tu ti prepari con rosario intero tutti i giorni cioè il demonio viene spesso dice gli esorcismi il demonio tante volte gli esorcismi dice questo lo potete vedere c'è un libro che si chiama storie di esorcismi di arrivo muscio dove se non riportate testimonianze di esorcismi dove il demonio spesso dice questa settimana questa persona non ha pregato per niente infatti il demonio fa lo sbruffone davanti all'esorcista sembra più forte nel resistere non obbedisce ai comandi e così via invece quando la persona ha pregato tutta la settimana comunione rosari il demonio urla dice che se ne deve andare perché la persona ha pregato tanto e quindi i comandi dell'esorcismo sono di un'efficacia pazzesca lo sono in sé perché sono comandi della chiesa ma lo sono anche in proporzione alla fede esercitata da chi ha pregato una settimana intera perché le cose sono fatte secondo la fede la fede come dice papa ratzinger nella nell'ancilica sulla speranza la fede si esercita prima di tutto nella preghiera più preghi e più vuol dire che credi questo è molto molto importante quindi chi segue tra virgolette me ma realtà insieme seguimo gesù con maria per maria e maria io vorrei proprio che prendesse la nostra spiritualità il nostro obiettivo questi realmente sono consigli che sto comandi perché ognuno ha il suo padre spirituale io do solo consigli perché insegno quello che insegna la chiesa naturalmente no però ecco io vorrei veramente che voi abbiate proprio chiare alcune cose precise per essere vincitori nei combattimenti come dice san paolo in tutte queste cose noi siamo più vincito più che vincitori in virtù di colui che ci ha amato cioè di gesù che ci ha amato ed è morto in croce per noi ed è risolto e così via no allora io vi invito a valorizzare sempre più la preghiera pubblica della chiesa quindi la messa i sacramenti tutto quello che che praticamente sapete e che ho detto e tra le preghiere private in particolare la meditazione e il santo rosario e poi ogni tanto naturalmente questo non esclude ci sono persone che dicono la conoscina la misericordia e le preghiere sono tutte buone per carità io vi sto dando delle indicazioni secondo me molto importanti ma questo non esclude che poi ognuno abbia la devozione che sono a santa rita a sant'antonio perché io tutto ciò che glorifica gesù lo promuovo non sono una persona che dice la mia spiritualità è quella giusta tutte le altre praticamente che non rientrano nella mia sono addirittura arrivo a dire sbagliate manca di diverse sbagliate no 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 ricordate che l'eterno padre a santa caterina gli ha detto che è molto pericoloso quando le persone assolutizzano una spiritualità quasi disprezzando le altre ogni spiritualità fino a quando sta nell'alveo della chiesa è buona e bisogna lasciare libere le persone ad eseguirla liberamente senza condizionarle quando invece non sono d'accordo con la chiesa allora si combattono perché quello che non è d'accordo con la chiesa io lo dico chiaramente a me io su questo so ospio santo mi ha fatto capire ma grazie a te maria che appunto ogni spiritualità è buona tanto quanto fa quello che dice crista e la chiesa e finché sta in questa dimensione bisogna favorirle anche se non è la nostra io per esempio posso dire alcune spiritualità io non le sento mie non ci andrei mai a seguirle ma non perché le disprezzo ma perché io sento che la mia è un'altra però sempre sono sempre fratelli e sorelli mie in crista e nella chiesa e questo è molto importante noi dobbiamo mai condizionare la gente dobbiamo sempre condizionarla nel senso di ricordargli quello che dice lo spio santo crista e la chiesa ma mai condizionarli perché noi pensiamo che la nostra spiritualità è meglio dell'altro no 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 lasciamo dice da gesù quale sono meglio le spiritualità non decidiamo noi alla chiesa perché noi abbiamo l'autorità per giudicare spiritualità allora questo è molto importante quindi per vincere messa prima di tutto preghiera pubblica della chiesa benedizioni pubbliche come so gli esorcismi e così via nelle preghiere private ho detto meditazione rosario e insieme a queste cose allora preghiere di liberazione private e tutto quello che serve anche per liberazione oppure preghiere di guarigione private o di guarigione interiore e tutto quello che viene fuori anche da tante altre spiritualità della chiesa io per esempio io una cosa che io sono veramente consacrato col monforte proprio con maria e dio in questo diciamo solco mi ha fatto conoscere i carismi dello spirito santo che secondo me sono fondamentali perché lo dice il concilio vaticano secondo dice che se voi ve l'andate a legge dice che dio dona dei carismi semplici o più grandi per il bene della chiesa che vanno accolti con riconoscenza e gratitudine cioè guardate che i carismi bisogna veramente accoglierli e usarli istantamente perché servono 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 per combattere il maligno servono quando c'è il discernimento per scoprire gli inganni dei demoni servono quando c'è un carisma di guarigione per pregare perché quella malattia sparisca e quella persona sperimenti che cristo è vivo risorto e guarisce libera e salva come dice la scrittura il nostro dio è un dio che salva libera e guarisce è vivo vuol dire se è vivo se deve sentire e deve guarire quindi libera altrimenti vuol dire che è morto ancora no appunto no è risorto grazie a dio allora e quindi oggi ci tenevo molto a invitarvi a fare tutto questo e soprattutto in questo naturalmente tante cose non le posso dire perché non è che posso fare tutto il suo conto di tutta la spiritualità e quindi quelle cose fondamentali le ho dette e quindi se una persona per esempio ha problemi di abolici o c'è una malattia privatamente come ho insegnato faccia le preghiere di liberazione le preghiere di guarigioni ogni giorno sostenute da una preghiera continua come dice certi demoni si cacciano solo con preghiere di giuno oppure pregate sempre senza stancarvi allora ci deve essere una preghiera continua che può essere quella della messa del santo rosario che è continua e personale è un impegno di tutti i giorni e su questa preghiera che so come le fondamenta della casa poi ci si mettono le mura che so le preghiere di liberazione e preghiere di guarigione che rifiniscono tutta la casa la fanno completa no però se non c'è il fondamento una preghiera continua messa rosario confessioni sacramenti cioè il resto è importante ma cioè se vogliamo veramente una casa completa una vittoria completa bisogna che ci sia tutto fondamenta pareti e tetto e arredi interni no e soprattutto che tutto questo sia abitato da da dio allora ecco che significa vivere in grazia di dio no allora ecco queste cose non è lo so che possono sembrare scontate ma dato che nell'ultimo mese e mezzo praticamente mi hanno contattato almeno senza esagerare non vorrei dire scemenze ma più di 200 non so vabbè solo dio sa il numero delle persone e dato che spesso molte sono già in cammino ma molte sanno proprio all'inizio a volte non sanno manco no ma questo per carità io il canale serve apposta per far sempre più conoscere amare gesù in tutte le fasi della vita in cui non può stare però mi raccomando sappiate che non c'è bisogno che ogni giorno se deve incontrare il sacerdote ricevere la preghiera di liberazione da quello no 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 questo ci deve essere ma poi nei fatti non è possibile padre ammorti diceva l'ideale sarebbe un esorcismo al giorno ma lui stesso anche nei casi più gravi spesso ne faceva una settimana perché quando cominci a venire 100 persone 200 persone delle 100 persone e il tempo è quello è considerate che padre ammorti faceva esorcismi padre candido gli aveva insegnato a farli massimo di mezz'ora perché tanto lui aveva detto se siete libera ma è dio che dice del tempo quindi inutile mettere se sta poi in certi casi lui faceva anche di ore dipendeva da come vedeva che andava la preghiera no comunque ecco quindi noi dio non ci ha lasciati orfani quindi ogni giorno se noi preghiamo costantemente già veniamo liberati già veniamo santificati c'è gente che guarisce davanti al santissimo sacramento in adorazione quindi non è che questo è molto importante perché io voglio che siamo sempre più veramente soldati di cristo e il soldato non è soldato soltanto quando va in guerra nel senso che lo chiamano magari a difende il paese nella battaglia proprio quella pubblica ma il soldato e soprattutto che ogni giorno se eserce da tutto quanto no normalmente io parlo dei soldati spirituali perché poi la guerra è sempre meglio evitare da quella terrena no era solo per fare un esempio allora ecco quindi c'è un impegno personale giornaliero no e ricordatevi dice come mai mio marito fa così è questo lo sa solo dio perché fa così comunque madre teresa diceva che le famiglie che pregano di solito rimangono unite di solito e poi ci sono nessuno giudica nessuno per carità allora figlia mia chiedite ma sei sposato da 15 anni molto marito tu moglie sta a fa così ma in queste 15 anni tu quanto veramente è custodito la tua famiglia con le preghiere e hai fatto quello che cristo comandava no tante volte succede che si è fatto un po come uno tra virgolette gli è sembrato bene come ho anche voluto a volte e poi quando c'è il problema grosso allora se si viene a dio e dio deve subito intervenire perché io mi sono reso conto e per carità dio interverrà dio aiuta tutti non respinge nessuno come dice la scrittura però bisogna sapere che solo che se si combatte si vince e il combattimento va fatto in maniera personale e in maniera pubblica aiutato dai sacerdoti aiutati dagli altri fratelli e sorelle va fatto insieme con la chiesa che a volte è rappresentata da fratelli e sorelle a volte dal sacerdote a volte dal vescovo a volte dal papa e così via però questo volevo proprio che si fosse chiaro soprattutto a chi fa anche il cammino di battesimi spirito santo perché noi qui stiamo facendo il cammino per il battesimi spirito santo ma noi qua battesimi spirito santo è una tappa importantissima ma noi poi nello spirito santo ci dobbiamo vive e muoverci nel tempo terreno e anche nell'eternità dobbiamo proprio essere capaci di starci nello spirito santo e rimanere saldi come maria e per questo chi prega se salva chi prega guarisce che prega se libera chi prega se santifica chi prega sopporta chi prega ce la fa chi non prega non se salva questo è chiarissimo un conto che uno non prega perché c'è un impedimento che non ce la fa il monforte stesso dice che ci sono impedimenti naturali e soprannaturali addirittura no e quindi quando ci sono degli impedimenti non colpevoli per carità che dio tiene conto del bene tuo delle preghiere degli altri no le preghiere degli altri mi tiene conto sempre anche no tante volte sono quelle che salvano un'anima che non ho mai pregato no però ordinariamente è giusto sapere che dio sant'alfonso ricordate questa cosa sant'alfonso che dice dio la grazia della giustificazione l'ha data gratuitamente cioè quella di farti ricevere il battesimo di levarti il peccato originale di darti lo spio santo quella è gratuita ma tutte le altre ha messo come condizione che siano chieste nella preghiera quindi sappiate che a parte la giustificazione con cui si viene battezzati e si sta in grazia tutte le altre grazie devono essere chieste in preghiera sant'alfonso dice che è una condizione che ha messo gesù nel vangelo chiedete vi sarà dato pregate otterrete bussate e vi sarà aperto quindi ecco perché serve il combattimento e serve la preghiera perché tutte le grazie anche i miracoli sono legati alla richiesta quindi spero di aver detto queste cose che possono essere chiarimento possano essere una specie di vademecum per chi segue il nostro cammino insieme dietro a gesù perché io voglio che sia chiaro io questo fa parte della mia esperienza anche personale per questo testimonio guardate e abbiate fede anche quando le situazioni sono disperate se ce la fate cominciate a recitare il rosario intero guardate io io ci sono delle volte che in certe situazioni stavo veramente male provato sofferente per i combattimenti per tante cose la notte dio mi svegliava non mi veniva più il sonno io prendevo la corona in mano e cominciavo e non me l'accorgevo dopo un po' mi accorgevo che avevo detto 20 misteri proprio come se avessi respirato è come quando uno fa un respiro e il rosario proprio te lo prendi dentro tutto io andavo talmente preso dalla preghiera che dopo un'ora e mezza me l'ho accorto che avevo detto tutto il rosario intero beh io ero in sofferenza dopo aver detto il rosario intero mi riveniva una forza la mattina mi svegliavo mentre sembravo robocop robocop spirituale naturalmente no allora questo per dire ieri avete sentito il messaggio della divina volontà Gesù ti dice alla picareta la forza la devi prendere da me e attingete forza nel signore dice la scrittura ma una forza si attinge se preghi guarda a volte servono servono la vitamina c la vitamina d quando le cose servono a livello medico per carità ben vengano ma tante volte le oppressioni sono del tipo spirituale e se te impreghi non se ne vanno dopo via vitamina c a vitamina d dopo via addirittura quelli che mettono l'umore più su che ti sembra sembra che fanno mai effetto perché perché il problema non è medico e quindi se è spirituale se te impreghi ecco io voglio testimoniale che il rosario è una medicina universale il santo rosario in particolare naturalmente dopo la comunione già l'ho dette queste cose ma a livello privato è una medicina universale e medicina per guarire medicina per liberarsi medicina per santificarsi medicina per fortificarsi medicina per liberarsi dei pensieri cattivi medicina per liberarsi dalle paure medicina perché la preghiera della pace e la pace voi sapete che nella bibbia quando dice pace a te non è pace nel senso sto un po in pace significa pace contiene tutti i beni della salvezza la pace è il colmo dei beni è la pienezza dei beni in terra in cielo infatti si dice la pace eterna no allora ecco ci tenevo proprio questo insegnamento lo metterò nel battesimo in spirito santo perché tutti quelli che ascolteranno che faranno il battesimo quelli che ascolteranno il canale io voglio che sappiano qual è il nostro modello di di spiritualità per imitare adorare gesù seguirle così via poi a livello privato io ho insegnato anche non la potenza del nome santo di gesù ma questo è contenuto nel rosario perché rosario è così potente perché ogni ogni ave maria si dice tutto il prodotto gesù se ripete il nome potente di gesù per questo rosario è una macina i demoni mi stridola le spezza gli spezza le gambe e spezza tutto e voi sapete che la madonna sorrocia ha detto che da quando dio ha dato tanto potere a maria e rosario non c'è problema personale familiare nazionale internazionale e mondiale possiamo dire perché così dice tanto questo intendeva che non si possa risolvere col rosario in particolare col rosario intero provare per credere tu che so giorni che sei sempre a di che ce la fai del qua dell'anno benissimo io te capisco caro figlio figlio di dio perché a volte se non mi fermasse il signore me lamenterei molto più da te no beh invece d'estate a perdita sta mezz'ora lamentate pia mano la corona comincia a far diventare la lamentazione siluri che vanno al cielo attraverso il rosario poi vedrai come cambiano le situazioni guardate non ho paura di essere smentito perché questa è una cosa che io a mia madonna mamma è deluso e quindi ci sono mamma è deluso e farò sicuro che non mi deluderà mai io ogni volta che metto la mano su quello che mi promette maria io so certo proprio ho la certezza la certezza nella fede di maria proprio e questo voglio che sia anche per voi così quindi da oggi accogliete maria nella vostra cassa sempre più accogliete la potenza la corona del rosario fa della sgrana fra le dita fa della veramente diventa musica nei cuori fa della diventare ripetizione dei pensieri fa della diventare veramente un una potenza che come dice santa il de garda santa il de garda nei suoi scritti dice le azioni degli uomini vanno nell'aria e condizionano anche gli elementi ecco fate che l'aria si riempia di ave maria di padre nostro di gloria al padre di preghiera affinché possa tornare veramente come una pioggia di grazie e possa nell'aria cacciare i demoni perché i demoni sono nell'aria dice la scrittura e possa riempire l'aria invece di talmente la benedizione di dio e del profumo di maria che questo profumo possa scendere sull'umanità intera sulla chiesa intera e portare il trionfo del cuore immacolato di maria il nostro scopo è quello che io chiaramente definito nel canale il mio cuore immacolato triunfano trionferà trionfa ecco se noi vogliamo che il cuore immacolato trionfi e lo vogliamo perché sta già trionfando dobbiamo lottare perché solo che si lotta si vince ma io vi invito e se c'è riuscito a dirlo tutto in terra rosario dillo più che poi anche se ne dici otto misteri però è tutto quello che si è riuscito a fare un giorno il resto ciò metterà madonna no però noi siamo facciamo il bene possibile e san francesco diceva fai il necessario fai il bene possibile e ti troverai a fare l'impossibile e amen alleluia allora ecco ringraziamo veramente dio e in questo mese di giugno del sacro cuore vi invito è solo un invito io le cose le do per invito non faccio comandi non vi preoccupate ne che cioè che magari poi c'è sta che c'è i scrupoli dice se non faccio peccato se non faccio perché erano mio sono solo inviti i comandamenti sono quelli che dà a chiesa e lei è solo che comanda e noi fammo quello che dice crista a chiesa e in questo mese di giugno io vorrei che insieme comunque come comunità ognuno nell'ora che può denote del giorno dicesse la coroncina al sacro cuore di padre mio questo mese del sacro cuore io vorrei che tutti pregassimo gli uni per gli altri dicendo questa coroncina che padre mio diceva per tutte le persone che si affidavano alle sue preghiere ecco io vorrei questo mese passarlo proprio con l'intercessione di padre mio intercedendo presso il cuore di maria e di gesù e lui mette anche san giuseppe nella coroncina proprio perché ho sentito di fare così adesso mi mando questo audio poi mandare la coroncina di padre mio così chi vuole la può fare tutti i giorni almeno per il mese di giugno e gli uni per gli altri proprio perché appunto come dice la madonna astrologia i problemi personali familiari nazionali internazionali di qualunque tipo attraverso il cuore di maria e di gesù si risolvano ok naturalmente vi lascio le ultime due chicche un'altra cosa importantissima per questo canale sono i nove venerdì del mese al sacro cuore di gesù e cinque sabbati in onore del cuore immacolato di maria chi non conosce vada su internet ricerche e trova tutto però io ho visto se voi vedete le dodici promesse del sacro cuore a chi fa i nove il re del mese ce ne sta una che dice le famiglie divise torneranno unire solo quella basterebbe per farli ok quindi io vi invito a questo tipo di spiritualità che naturalmente sempre respirato con i polmoni della chiesa in rispetto di tutte le altre spiritualità come dice la scrittura stimatevi a vicenda dice gareggiate gareggiate nello stimarvi a vicenda dice san paolo ecco noi dobbiamo essere esempio come canale come persone stimiamoci a vicenda fra noi nelle nostre famiglie ma stimiamoci anche con le altre spiritualità che non sono che sono sempre secondo la chiesa ma magari non so precisamente come la nostra non fa niente in un campo bellissimo e profumato i fiori sono dei tanti tipi l'importante che siano tutti dentro lo stesso campo che la chiesa poi se uno è violetta se uno è rosa a te che tu non ti stai a preoccupare basta che profumano per gesù cristo poi se quella è violetta e tu sei rosa lo sa dio perché non se tu non sei tenuto a dire che la violetta non è buona o non è bella come te questo io non te lo tasto d'autorità di dirlo te può dire io profumo come rosa aveva gesù e quello profumo come violetta l'importante è che amiamo gesù che profumiamo per gesù allora ecco vorrei dire tante altre cose sinceramente perché è la nostra spiritualità appunto iniziale sceradona no alla fine di questo di questa catechesi voglio fare un tributo specialissimo allo spirito santo perché uno dei scopi del canale appunto è proprio questo è quello di evangelizzare spirito santo e potenza e come dice san paolo la mia predicazione non si basò su una sapienza umana ma sulla manifestazione della potenza dello spirito santo perché aggiunge perché la vostra fede non fosse basata sulla sapienza umana ma sulla potenza di dio ecco questo canale vuole e questo è il mio affidare tutto e lo spio santo che la nostra fede di tutti quelli che ascolteranno sia basata non sulla sapienza umana ma sulla potenza dello spirito santo la potenza del nome di gesù la potenza che dice san paolo affinché tutte le intelligenze si sottomettono a gesù il signore tutte le intelligenze siano chiamate ridotte all'obbedienza di cristo signore ma attraverso la grazia non la violenza attraverso l'amore attraverso la manifestazione e la potenza dello spirito santo che dice agli uomini alle donne tu sei fatto per dio non sei fatto per essere schiavo tu sei fatto per essere figlio no per essere legato demoniato malato e così via e questo lo vuol dire solo lo spirito santo nella sua manifestazione di potenza io questo chiedo come dono meraviglioso alla fine della nostra catechesi chiedo che lo spio santo si prenda proprio in braccio il canale noi tutti tutti quanti e mostri proprio questo che manifesti la sua potenza e che la fede di tutti quanti si fondi con la chiesa sulla potenza dello spirito santo è arrivato il momento di una nuova pentecoste dove bisogna che lo spio santo rimette i puntini sulla i e dica questi figli queste figlie sono mie e devono essere istituiti a me o che l'aveva presa il demonio che le opprimeva la malattia o che qualunque altra cosa io so il signore devono tornare tutti a me sotto le mie ali io metto tutta la comunità tutto il passato presente futuro nostro sotto le ali dell'onnipotente dove nessun male ci toccherà amen alleluia ave o maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori ad esse nell'ora della nostra morte ame e la benedizione di dio onnipotente per intercessione di san pio di san claudio la colombiera di santa margherita la coca di tutti gli apostoli del sacro cuore in particolare e attraverso san raffaello arcangelo scenda su tutti nel nome del padre dei figli e dello spirito santo ame pace e bene a tutti cari figli e figli di dio e grazie di tutto quello che facciamo e fate per gesù